Buongiorno amici apriamo un piccolo vlog come al solito dalla macchina ormai il mio marchio di fabbrica e in questa domenica pomeriggio domenica 17 novembre sto andando da zocca garden a vedere un po di natale è la prima volta che vado a zocca garden quindi non so non so com'è sono emozionata perché a me piace molto il periodo questo periodo insomma non può essere le prime cose di natale io adoro il periodo di natale e adesso lo andiamo a scoprire insieme anche lì davanti si vedono ancora le nuvole non so se si vede bene ma c'è del rosso del tramonto è bello sto cielo una piccola nota a margine a parte quello che continuo a premere tasti a caso ho deciso di fare la brava quindi mi sono dato un budget molto molto limitato mi sono portata via solo 20 euro in contanti e non userò la carta di credito più che altro con la verite che ho un sacco di cose di natale e francamente tutto quello che compro adesso diciamo sono tutte cose non sappiamo molto non sapevo mettere no non è vero c'è sempre posto delle cose di natale in casa ho sposato il grinch è stato un buon appetito tipo m Entriamo nella zona mercato La zona pericolosa Spese in arrivo 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 ecco finisce qui questo giro da zocca garden a vedere il villaggio di natale se vi è piaciuto lasciate un bel like ci vediamo al prossimo video iscrivetevi al canale a